Il Consiglio regionale del 26-27 luglio ha approvato il rendiconto per l'anno finanziario 2021 e l'assestamento di bilancio di previsione per gli anni 2022-2024. Uno dei temi che però ha coinvolto maggiormente i consiglieri è quello relativo alla sanità. Molte partecipazioni proviamo anche a venirne fuori, dobbiamo consentire al mercato di avere delle opportunità di giocare una partita nuova dove la regione ha svolto negli anni un ruolo che magari oggi non le compete più per il cambio anche del mercato e della normativa. Nel contempo il quadro sanitario sta rientrando nei canoni della normalità dopo gli effetti del Covid che sono innegabili. C'è stata una parte di aiuto che è arrivata dal governo Draghi fondamentale e poi c'è bisogno di una necessità, un equilibrio, di tenere i conti in equilibrio. Questo è il dovere delle nostre aziende sanitarie ma che credo che in questi anni hanno dimostrato di saper fronteggiare una crisi, di mantenere un livello, uno standard alto dei propri servizi e credo che questo sia comunque un elemento positivo per la nostra regione. Due criticità in queste ore più importanti delle altre. Una è quella delle associazioni di volontariato sociale, ci sarà l'audizione in commissione. È evidente che hanno fatto un servizio straordinario ed eccezionale in un momento in cui c'era una crisi energetica dei costi maggiori e quindi se abbiamo interesse a continuare a mantenere quel tipo di rapporto si deve assolutamente investire dei soldi. Servono 10 milioni di euro, sono all'incirca 10 milioni di euro che la regione Toscana ha dato Toscana Aeroporti. Se quei 10 milioni gli diamo anche al volontariato sociale possiamo probabilmente salvare alcuni servizi, alcune funzioni che altrimenti nessuno farebbe, che altrimenti nessuno farà nei prossimi giorni, nelle prossime ore perché ci sono già alcune associazioni che dicono che dovranno sospendere il servizio di 118 notturno a partire dal primo d'agosto che è domani mattina. Quindi serve 10 milioni di euro, la regione Toscana deve trovare, troviamoli come l'abbiamo trovato per Toscana Aeroporti. Allora ci sono due aspetti, una roba, quello che sono i rilievi rispetto al conto consuntivo che sostanzialmente la Corte dei Conti ovviamente ha accolto evidenziando che i conti sono in ordine della sanità toscana e mettendo in evidenza alcuni aspetti che attengono al modo in cui l'assessorato, la regione attribuisce i fondi alle aziende, ma tutto attiene a una normale prassi di gestione delle relazioni tra aziende e assessorato. Altra cosa sono le risorse in generale per il sistema sanitario, noi lo andiamo dicendo da tempo, sicuramente da dopo il 2019 e cioè che questo Paese ha bisogno di adeguare le risorse che si destinano al sistema sanitario rispetto a quelle che sono le percentuali di PIL che, almeno la media europea. Questo è un tema che sarà anche tema di campagna elettorale, io penso vada fatto con forza perché in questo si mette in difficoltà tante cose, a cominciare dal tema dell'eliminazione della spesa di personale. Il limite alla spesa di personale penalizza i sistemi pubblici come quello toscano. Dovremo sicuramente innanzitutto rivedere ancora una volta la sanità e come procede la messa sui binari di quelli che sono stati le derivazioni degli stati generali della sanità perché secondo noi la sanità territoriale ancora continua a essere una cenerentola e questo con tutte le conseguenze per le persone affette da patologie croniche o che comunque si hanno bisogno di un'assistenza che vada fuori il momento acuto in cui si è ricoverati. Detto questo anche gli ospedali sono in gravi criticità. Pensare che ad oggi è stato consigliato di portarsi ventilatori da casa in alcuni reparti perché non si riesce neanche a supplire le criticità del caldo fa pensare non a un'eccellenza sanitaria come la Toscana spesso si vanta di essere. Altro tema ovviamente sono le liste d'attesa alla sanità che è in sofferenza ormai non da oggi ma da tanto troppo tempo. Si chiama Portami con te l'iniziativa pensata a Montepulciano dal Comune e dal Consorzio del Vino Nobile e dagli esarcenti. L'obiettivo è il contrasto allo spreco alimentare in una delle culle dell'eccellenza gastronomica ed enologica della Toscana. Per questo sono state ideate due scatole realizzate con carta riciclata, una dedicata al vino ed una al cibo che consentiranno di portare via ciò che non si è consumato. Ha un significato importante, la lotta allo spreco alimentare è una lotta del nostro tempo, dobbiamo tutti porre le condizioni per andare in questa direzione. Abbiamo la necessità non solo di investire in turismo enologico ma anche in turismo ecologico nel rispetto della nostra terra, nel rispetto di chi ha anche meno opportunità. È un'iniziativa bella, voluta dal Comune di Montepulciano, voluta da Confcommercio, da Confesercenti, a loro un grande grazie. Questo che è uno dei vini migliori che produce la nostra terra oggi fa un ulteriore scatto in avanti importante, un territorio si mette a disposizione. Siamo la prima denominazione che si è certificata sostenibile in Italia secondo lo standard De Qualitas nello scorso mese di maggio. È stato un percorso abbastanza lungo, direi che è stata principalmente una rivoluzione culturale all'interno delle aziende e quindi nella testa dei nostri produttori. Pensare ad una produzione sostenibile era da anni che ci stavamo lavorando ma semplicemente è quasi oggi una scelta obbligata davanti al cambio climatico, davanti alle esigenze anche di carattere etico e sociale a cui devono dare disposte le nostre aziende, era necessario mettere insieme un protocollo che potesse certificare il nostro impegno in questi settori, in questi ambiti. Quindi grande attenzione all'ambiente, grande attenzione al sociale e quindi al fatto di utilizzare i nostri contratti di lavoro adeguati per le professioni che vengono impegnate nelle nostre aziende e naturalmente guardare anche al ruolo etico dell'impresa, quindi l'impresa che ha necessità di avere una sua anche sostenibilità economica per fare crescita in un territorio, per far sviluppare quel territorio e nell'ambito della sostenibilità ci sono tanti piccoli pezzi. Oggi possiamo raccontare una piccola esperienza ma che senz'altro a Montepulciano cambia anche il modo di approcciarsi anche nel mondo del turismo e gastronomico. Pensare, sono buone abitudini che si incontrano un po' in giro per il mondo, il doggy bag e in questo caso il dog wine, il wine bag, è senz'altro una pratica che ci aiuta nel portare avanti la nostra ideologia di attenzione all'ambiente, in questo caso un messaggio importante anche contro lo spreco alimentare. Lo abbiamo fatto in collaborazione con l'ente locale che ringrazio per il supporto non solo in questa iniziativa ma in tante altre iniziative che il consorzio sta portando avanti e devo dire che anche i ristoratori di Montepulciano hanno condiviso con noi questo percorso in maniera assolutamente convinta. Vogliamo lanciare quindi un nuovo messaggio a tutti coloro che visiteranno la nostra città in questa stagione turistica sarà presentato questo nostro progetto. Mi auguro che dall'aspetto sperimentale della stagione 2022 possa diventare poi successivamente un'altra delle buone pratiche che a Montepulciano si fanno in ambito imprenditoriale, turistico e diciamo legate al mondo dell'enoturismo in particolar modo. È un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente insieme al consorzio del vino nobile di Montepulciano con il quale abbiamo stipulato anche nel corso di questi tre anni di mandato importanti accordi di comunicazione della nostra destinazione attraverso anche il vino, consapevoli che comunicare la destinazione turistica anche attraverso il prodotto d'eccellenza significa veramente promuovere un intero territorio. È un progetto che risponde sicuramente ad un punto programmatico del nostro programma di mandato contro lo spreco, la lotta insomma allo spreco alimentare attraverso queste scatole diciamo di cartone riciclato e a loro volta riciclabile attraverso le quali potranno essere presi i cibi e le bevande non consumate sul posto e verranno distribuite gratuitamente a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della città di Montepulciano, di tutto il comune di Montepulciano, oltre i duecento tra enoteche, ristoranti e bar. Chiaramente è un progetto che ha un profilo culturale, sociale ma anche ambientale perché si riduce sicuramente l'impatto dei rifiuti sull'ambiente ma è anche un modo per andare a sensibilizzare l'utenza che sicuramente si parla di grandi numeri a Montepulciano, si parla di oltre un milione e mezzo insomma di presenze che toccano sicuramente in gran parte la città del capoluogo però è chiaro che insomma c'è una risposta in favore di tutte le attività commerciali. Noi siamo ben consapevoli che il turismo gastronomico rappresenta un'importante fetta della nostra economia e la nostra intenzione è quella proprio in virtù anche del percorso che è stato fatto dal Consorzio del Vionobio di Montepulciano come primo distretto vitivinicolo sostenibile di andare in una direzione sulla base di dati che erano stati appunto elaborati dall'università telematica con sede a Montepulciano andare in una direzione di una certificazione della destinazione turistica a Montepulciano mettendo in atto delle progettualità insieme a quelle che già sono state messe per appunto dare un segnale sicuramente di tutela del nostro territorio, delle caratteristiche del centro storico e della qualità della vita quindi il prossimo obiettivo sarà proprio questo della certificazione della destinazione turistica. Non ci può essere il messaggio che viene dall'Aldicana Senese, un messaggio che è coerente con ciò che stanno facendo da tempo perché anche l'ambito utilizza la strada del vino in modo strutturato proprio a mettere insieme l'esperienza gastronomica con la promozione. Anche il messaggio di oggi è un messaggio promozionale che è in linea e coerente con quello che cerchiamo di fare ormai da un anno con vetrina toscana partendo dal manifesto dei valori, è un impatto etico quello che vogliamo che sia l'esperienza in Toscana attraverso il cibo e il fatto che si possa mettere insieme anche il vino in un contesto che affronta anche il tema dello spreco alimentare e della necessità di affrontare quel momento con una riflessione appunto senza distrazione. Mi pare che sia questa l'essenza di questa proposta è un messaggio giustamente che deve essere utilizzato anche per promuovere una destinazione che si fregia di avere un approccio di questa natura e che oggi è valorizzata ed è giusto che anche da noi arrivi un encomio per quello che viene oggi proposto e sicuramente sarà raccolto anche dai visitatori. Questo progetto è importantissimo per il territorio della Val di Chiana Sianese principalmente il comune di Montepulciano che propone una soluzione sostenibile per quanto riguarda la lotta contro lo spreco alimentare ma non solo. La possibilità di portare via i pasti non consumati ma non solo ma anche le bevande non consumate sono un segnale importante per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente e appunto allo spreco alimentare. Il Consorzio del Vino Nobile però dobbiamo e possiamo dire che è sempre stato molto attento sia alla sostenibilità che all'ambiente. A partire dagli anni 90 infatti ha messo in atto delle politiche sostenibili che gli hanno dato la possibilità quest'anno di avere il riconoscimento del premio dell'ecosostenibilità del prodotto del vino nobile di Montepulciano legato appunto al territorio alla modalità ambientale di produzione del vino stesso. Un progetto che viene da lontano e questo fa capire la lungimiranza di chi opera e lavora nel Consorzio del Vino Nobile. Un progetto, una certificazione di sostenibilità ottenuta a maggio da Federdoc, la prima in Italia data da Equalitas e che è di forte pregio per tutto il nostro territorio. Credo assolutamente che possa anche essere un progetto pilota che possa assolutamente essere preso di esempio anche da altre realtà e alla quale si unisce appunto questa presentazione di oggi di queste bag da portare via da tutti gli esercenti della zona è un grosso pregio e un bel messaggio che possiamo dare agli esercenti e a tutti i cittadini.